Ok, questo è un errore davvero pignolo, ma lo sapevate che Tai Lung nel primo Kung Fu Panda è totalmente sbagliato, almeno per quanto riguarda il suo verso. Infatti il leopardo o fantasma delle nevie, questo Tai Lung nella realtà, a causa di alcuni aspetti morfologici della sua laringe non potrebbe ruggire come una tigre. Anzi, il suo verso dovrebbe essere più o meno così. Sapete, forse ho capito perché hanno deciso di mettere il ruggito. Comunque siamo in un universo in cui gli animali parlano e combattono, quindi chi se ne frega.